La candidata a sindaco Marcella Luzzi presenta la sua squadra in vista delle elezioni amministrative del comune di Monte San Savino. Rinasci Monte è il nome scelto per la lista civica a sostegno della candidata. Significa la rinascita di Monte San Savino che noi auspichiamo qualora fossimo chiamati a governare, ce lo auguriamo, di poter attuare attraverso una gestione amministrativa, scelte politiche diverse da quelle che sono state fatte fino ad ora. 12 candidati per la lista Rinasci Monte, espressione della società civile di Monte San Savino. Nessuno di noi ha mai militato, ha fatto vita di sezione o di partito. I partiti non hanno scelto i candidati di questa lista, non hanno scelto, non hanno interferito sui programmi, sul programma elettorale. Però noi sappiamo che siccome ci rivolgiamo, siamo ideologicamente rivolti verso un'area liberale di centrodestra, noi abbiamo il gradimento di questi partiti di centrodestra, anche se ripeto, sono stati completamente estranei alle nostre scelte, sia di persone, sia di argomenti nel programma. Ed intanto la candidata alla carica di primo cittadino pensa già ai suoi primi cento giorni da sindaco e soprattutto al primo atto che si augura di poter firmare. Il primo atto è un atto forse un po' inconsueto, cioè firmerò la rinuncia all'indennità di sindaco che io non vorrò, non vorrò prendere, lascerò nelle casse del comune e ogni anno useremo questo denaro per delle opere.